La politica è slancio, idee, proposte, ma anche occupazione fisica del potere e quindi questo oggi troviamo sui giornali una tensione altissima sulla formazione del governo e di riflesso sulla votazione per la presidenza delle Camere che sono ridotte come sapete, ma anche a Firenze si traduce, si scioglie in una tensione sul governo della città, ovviamente i protagonisti sono ancora Matteo Renzi e Dario Nardella, poi c'è anche la cronaca della sport e di tutto questo parleremo oggi, a prima di tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati prima di tutto alla signora Stampa Ragionata di TV Prato, come ogni mattina alle sette e mezzo cerchiamo di capire dai giornali nazionali e locali che cosa sta succedendo, che cosa succederà, oggi in modo particolare facciamo un salto logico, facciamo uno strappo alla regola e immediatamente mi faccio assistere alla lettura dei giornali dal nostro ospite Carlo Andrea Poli, giornalista dell'Agenzia Dire, buongiorno Carlo Andrea. Buongiorno Giorgio, buongiorno agli spettatori. Lo faccio soprattutto perché Carlo Andrea è veramente un esperto di tutto ciò di cui andremo a parlare stamattina e vi indico immediatamente il titolo del Corriere della Sera, Camere, voto ad alta tensione, sceglie il giornale di Fontana ovviamente di aprire su questo, oggi c'è la scelta del Presidente del Senato nel giorno dell'insediamento con una ventina circa di esordienti toscani nelle due Camere che per la prima volta si insediano e con il Parlamento come vi dicevo precedentemente ridotto per la prima volta che passa nel totale di 600 membri. Oggi la scelta del Presidente del Senato nella notte si lavora all'accordo, si fa riferimento alla notte che è appena trascorsa, ebbene sembrerebbe da quello che ci dicono siti ed agenzie, per l'appunto chiamo Carlo Andrea, adesso poi lo interroghiamo, ma insomma che ci sia un accordo sul nome di La Russa per quanto riguarda appunto il Senato, ma adesso vi leggo subito l'articolo di Cremonesi e Paolo Di Caro. L'incipitrice primo giorno del nuovo Parlamento con l'insediamento delle Camere, ancora tensioni nel centro-destra, è stato il vertice sulla scelta, esaltato scusate ieri, il vertice sulla scelta dei Ministri, continua il braccio di ferro sui nomi, incontro tra i leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e Forza Italia, Silvio Berlusconi, c'è ancora tempo ma non troppo, commenta il leghista Giancarlo Giorgetti che come sapete è molto indiziato di essere il prossimo Ministro dell'Economia. I nomi accreditati, come vi anticipavo per la presidenza della Camera del Senato, sono quelli di Riccardo Molinari, colonnello di Matteo Salvini e Ignazio La Russa, insomma chiamarlo colonnello gli si farebbe un piacere sicuramente, perché è un lessico che a lui piace, in realtà è anche cofondatore di Fratelli d'Italia, in particolare appunto vediamo che il Corriere della Sera approfondisce queste due figure, parla dei quorum necessari per le due votazioni, con appunto la Camera a 400 membri al Senato a 200, si parla, c'è un doppio ritratto che fa appunto il giornale milanese, mezzo secolo tra le due onde della politica col cuore a destra e quello che riguarda la Russa, fino all'ultimo il candidato più forte per la presidenza del Senato, vi leggo qualche riga, che sarà proclamato dalla senatrice a vita Liliana Segre è Ignazio Lea Russa, anche se lui è sempre schermito, vedremo, farò ciò che servirà, dice mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto e sicuramente questo non l'ha mai fatto, si è parlato molto di questo avvicendamento ovviamente per la contiguità delle storie personali e non solo politiche di Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta come tutti sapete al nazismo, al fascismo anche dunque, perché da questo paese proveniva e sulla storia politica della Russa e sulla sua fede non rinnegata ma superata appunto post fascista e questo sarà, vedrete anche oggi, argomento di discussione. Invece qua abbiamo il leghista appunto a 16 anni, si parla di Riccardo Molinari che oggi ne ha 39, il predestinato lo chiama il Corriere appunto che brucia l'età per Riccardo Molinari candidato a diventare il secondo Presidente più giovane della Camera, i suoi 39 anni sono 8 in più di quelli che aveva nel 94 un'altra leghista, ora non lo è più e che ha fatto anche altri mestieri, tra cui la giornalista, la conduttrice televisiva, prima di incappare recentemente anche in alcuni guai giudiziari, si parla di Irene Pivetti. A proposito di figure femminili, mi piace anche ricordare velocemente quella luminosa della prima Repubblica di Nel Dejotti perché c'è un interessante sul Corriere ritratto di Pierferdinando Casini che è al debutto numero 11 addirittura, quindi è un gioco di parole per raccontare che forse non so se si tratta di un parlamentare in questo momento più anziano dal punto di vista delle elezioni vinte personalmente o comunque della partecipazione al Parlamento, ma il primo voto è appunto a chi viene dato il primo voto di Casini 11 legislature fa, a Nel Dejotti, questo è quello che vi volevo far vedere. Proseguiamo molto velocemente con le prime pagine, la Repubblica divisi alla meta, si parla ancora ovviamente del fatto che il centro-destra sia completamente in lite positiva almeno dal punto di vista delle proposte che sono fatte sui nomi del governo che si legano a quelle ovviamente delle camere, ho fatto vedere subito il Corriere Fiorentino perché per mostrarvi l'altra faccia della tensione, molte incasse previsti per 74 milioni, ma gli autovelox saranno più visibili, un articolo di Mauro Bonciani sul Corriere Fiorentino e si parla appunto di quella tensione di cui vi parlavo riguardo alle molte a Firenze e che nasconde ovviamente anche la lotta per il futuro amministrativo della città, si parlava ieri in un articolo di Ernesto Ferrara, un possibile secondo assessore richiesto da Italia Viva, oggi invece come vedrete si parla sia sul Corriere Fiorentino che su Repubblica, ma anche sulla Nazione, su altri giornali, del fatto che Renzi possa ritirare l'assessore Titta Meucci proprio per sancire questa rottura e passare all'opposizione. La crisi energetica entra in cantina, è appanto il titolo principale del Corriere Fiorentino, si parla della crisi del vetro, un articolo di Fiordelli e la fotonotizia invece è dedicata al flop, così lo chiama il Corriere Fiorentino di Matteo Berrettini a cui ieri non è bastato il Tif Viola è stato eliminato al debutto contro Caballus Baena al terzo set e non ce l'ha fatta, quindi non ci sarà più il principale protagonista del torneo italiano, dopo che Singer già aveva dovuto rinunciare per una questione di infortuni, ci rimane Lorenzo Musetti, un altro toscano. Ancora sul Tirreno, Cantierone Via Grande, appunto nel piano interventi in più lotti per chiudere serviranno 400 giorni, si parla di Livorno ovviamente, parla l'assessore Viviani, il via e i lavori previsto a gennaio 2023. Voglio chiudere con la Nazione, passando poi velocemente a Prato, parte la legislatura, la russa al Senato e poi invece la fotonotizia centrale del giornale diretto da Agnese Pini, in realtà Agnese Pini dirige il gruppo dei tre giornali, anche questo c'è una fotonotizia di Ilaria Rambaldi, una ragazza morta a 25 anni il giorno del terremoto terribile dell'Aquila e appunto non è colpa sua il titolo dell'articolo che approfondisce ovviamente la decisione di un tribunale appunto di alleviare le pene date a coloro che erano ritenuti responsabili delle mancanze per le morti avvenute durante il terremoto e si fa riferimento al fatto che le vittime avrebbero dovuto avere maggiore cautela dopo la prima scossa, avrebbero dovuto secondo il tribunale appunto evacuare gli stabili. Molto velocemente la Nazione di Prato, visto che già siamo da queste parti, la prima pagina appunto parla di maxiturni con contratti part time, ovviamente la denuncia del Sicobas ancora una volta contro un'azienda italiana diventa anche un video, ci racconta Silvia Abini e oggi appunto a Montemburlo ci sarà una manifestazione, la borsa del mattone è la fotonotizia centrale della Nazione, quanto costano le case? Ve lo dico subito, costano di più, cominciano a crescere nuovamente, insomma è come una brutta notizia per chi vuole comprare, una buona forse per chi vuole vendere, questo è il mercato e ovviamente abbiamo raccontato di tutto quello che riguarda l'energia, insomma le materie prime e si aspettava questa crescita, concludo invece con il tirreno, a Firenze si parla di caro bollette, caro maestro, lezioni gratis ai bimbi del rione, un articolo di Chiara Vignolini sul progetto per le famiglie messe in difficoltà dalla crisi, visto che di crisi parlavamo, ma vedete che c'è una specularità, lo studio di immobiliare.it viene affrontato anche appunto dal tirreno con il mattone che riprende a tirare 2.119 Euro al metro quadro, appunto in crescita i prezzi delle case e anche le compravendite, poi c'è una divisione per zone, ovviamente 2.119 è una media, è chiaro che ci siano delle aree dove costano di più le case e di questo ci parla in questo articolo il tirreno citando lo studio. Sono tante le cose da dire, soprattutto perché oggi si insedia il Parlamento e ci sono anche delle trame politiche importanti, sono tante le cose da dire sul territorio, lo facciamo subito dopo lo spot con Carlo Andrea Poli. Siamo da 30 anni al vostro servizio, presenti su tutto il territorio e reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato all'anno, sicuro e meglio. Siamo a Prato, in via Curtatone 16, telefono 0574 25965. Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi, gastroscopia da 115 Euro, colonoscopia da 145 Euro, TAC da 110 Euro, mammografia da 80 Euro, risonanza magnetica, alto campo, 1,5 Tesla da 130 Euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Buongiorno, bentornati ancora in studio per questa parte di prima di tutto dell'approfondimento. Voglio ringraziare come sempre la parte tecnica, noi miester romani in studio, Alessandro Pettorali in regia. Ebbene, come vi ho anticipato, è qua a fianco a me oggi a discutere con me Carlo Andrea Poli. Ciao Carlo Andrea. Buongiorno. Buongiorno a te, un collega che si occupa da sempre con dovizia di impegno e particolari della politica. Ti chiedo subito che impressione hai di quello che sta per succedere oggi. Insomma, abbiamo letto, qua abbiamo l'approfondimento del Corriere, ma anche Repubblico ovviamente ne parla diffusamente come tutti gli altri giornali. Che impressioni hai? Questo centrodestra ti pare pronto alla prova della maggioranza oppure no? Il Corriere apre con un titolo, alta tensione, sull'elezione della Presidenza delle Camere. Lo mostro. Probabilmente ci sarebbe stato anche un altro titolo, ovvero centrodestra col fiato sospeso, perché la difficoltà di questi giorni a chiudere un accordo sulla presidenza, la designazione dei candidati alla Presidenza della Camera e del Senato, svela anche una grande apprezzione, cioè che la legislatura possa essere battezzata da qualche sgambetto di franchi tiratori già la seduta numero uno, insomma. Sarebbe incredibile perché la maggioranza raccolta è ampia, però... La maggioranza raccolta è ampia e sarebbe ancora più incredibile perché i numeri della maggioranza parlamentare sono solidi. Non dimentichiamo anche che il centrodestra ha ottenuto il più ampio distacco, 17-18 punti percentuali a seconda che si leggono i dati della Camera e del Senato rispetto sul centro-sinistra il 25 settembre, che appunto è il risultato più eclatante da quando esistono le elezioni politiche della cosiddetta seconda repubblica, insomma. Quindi si pesano le coalizioni direttamente. Pertanto sarebbe veramente sorprendente. È un grande timore del resto che sta coltivando la stessa leader di Fracali d'Italia, Giorgia Meloni, sulle cui spalle, insomma, ha riposto il mandato, come dire, elettorale più importante e quindi di conseguenza la responsabilità di tenere insieme la coalizione. È stata molto silenziosa in questi giorni, ha parlato attraverso i suoi Sherpa, insomma, di Fratelli d'Italia. Uno dei quali è pratese, almeno di, come dire, di residente. Giovanni Donzelli, sì, esatto, esatto. E quindi già da qui si capirà quanto sia effettivamente coesa la coalizione che, non dimentichiamo, alla fine ha chiesto le elezioni politiche anticipate, ecco, per certi versi, molto di più del Movimento 5 Stelle che in estate, come ricordiamo, è stato il fattore, l'elemento scaturigine della crisi di governo, il governo Draghi. Tra l'altro direttamente e indirettamente, perché direttamente sono i due partiti che l'hanno chiesta, che sono alleati della Meloni e indirettamente la Meloni stessa, perché è chiaro che stando all'opposizione sempre non puoi che aspettare il momento giusto perché si vada alle elezioni, stando all'opposizione è proprio una, sarebbe una contraddizione in termini di contrario, anche se penso che molti di loro abbiano maledetto il timing, avrebbero preferito forse la prossima primavera, soprattutto per le incombenze che avrà il governo dal bilancio al gas, passando per tutte le altre cose. Senti, hai detto una cosa interessante prima, hai parlato di Seconda Repubblica, diciamo che se c'è una figura che fa riconoscere la Seconda Repubblica è il suo avvento politico elettorale, ancora oggi, dopo il 94 era più o meno, quindi siamo a una distanza veramente considerevole da quel momento, 28 anni se non vado errato, insomma, ancora oggi è lui l'aco della bilancia, veramente riesce ad esserlo in questo senso? Beh, diciamo che un esponente come Silvio Berlusconi non è abituato mai a fare il comprimario, ruolo al quale però è stato relegato a queste elezioni politiche, perché con l'8% insomma, si misura con una certa distanza rispetto a Giorgio Amello, ogni fratelli d'Italia che oggi pesano il 26% nel paese, o almeno quella parte di paese che si è espressa alle elezioni, sappiamo insomma che non è stata una parte oceanica, abbiamo misurato il più basso tasso di partecipazione al voto da quando esistono elezioni politiche in Italia. Certo, è un fatto, devo dire che è un fatto che si registra in tutti i paesi, in tutte le democrazie libere cosiddette dell'Occidente, il calo diciamo è, però effettivamente è un fatto. È una disaffezione abbastanza importante. Berlusconi quindi, dicevamo, non è abituato a svolgere un ruolo di gregario della coalizione e ha posto alcune condizioni che evidentemente Giorgio Amelloni ritiene ricevibili, come la presenza di Licia Ronzulli in un dicastero di peso, si parlava per Ronzulli del Ministero della Sanità. Che è l'area da cui lei proviene dal punto di vista professionale, lo ricordiamo, un'ex infermiera, ha esercitato poco tempo questo ruolo, poi subito entra a tempo lì. E tutto questo, insomma, c'è anche un rischio che si sta già, come dire, facendo largo in queste ore, nelle riflessioni degli addetti ai lavori e anche, insomma, degli esponenti, di alcuni esponenti qualificati della nuova maggioranza. Lo racconta bene Massimo Franco nella nostra politica del Corriere della Sera, cioè che queste tensioni possono poi preludere alla nascita di una sorta di due governi della maggioranza, cioè un governo con gli esponenti più vicini a Giorgia Meloni, tecnici, supertecnici e chiaramente i ministri di Fratelli d'Italia e dall'altra i ministri leghisti e di Forza Italia, perché poi dopo anche la Lega, insomma, non è uscita benissimo e si deve cercare di recuperare... Io trovo che questo sia un rischio molto reale, infatti ti interrogo su questo, perché in realtà è proprio vero, cioè Meloni ha bene in mente, lo ripete, è l'unica cosa che ripete veramente lei, verbalmente, che dice lei voglio un governo di altro profilo, voglio un governo di altro profilo ed effettivamente quelli che poi lei non sceglierà si sentiranno A, di basso profilo, se poi riusciranno ad entrare e B, ovviamente faranno squadra o no? Sì, faranno squadra, il rischio appunto che viene in qualche modo vaticinato è che possano essere elementi abbastanza ostili alla stessa Presidente del Consiglio, peraltro il centro-destra ha un precedente storico abbastanza importante nella legislatura 2001-2006, quando un anno dopo la nascita del secondo governo Berlusconi nacque, lo dico nel lessico dei cronisti parlamentari, il cosiddetto sub-governo Fini-Follini, cioè l'allora leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini e l'allora leader dell'Udc Marco Follini, in qualche modo si coalizzarono per contenere quello che era la gestione considerata cesaristica e monarchica di Silvio Berlusconi del tempo. E' curioso che adesso proprio sia Silvio Berlusconi, sia Matteo Salvini, a poter porre sul tavolo la questione di una gestione, come dire, da donna sola al comando da parte di Giorgia Meloni, però questo insomma è un ricorso storico interessante, però rischia di essere un elemento di forte instabilità per il nuovo esecutivo. Se è vero quello che tu dici, io concordo con te, se è vero quello che tu dici e se è vero che Salvini difficilmente resterà fuori dalla squadra di governo, vedremo con quale delega si combatte nella Lega, si alza il prezzo sul fatto che lui ridebba fare ovviamente il ministro dell'interno, sappiamo che ci sono anche degli impedimenti di carattere tecnico, il Presidente della Repubblica forse non sarebbe così contento di dare il suo placet a un ministro che nell'esercizio delle sue funzioni ha commesso un reato, a cui c'è un processo, avrebbe commesso ovviamente un reato e quindi insomma quel subgoverno Fini-Follini di cui parlavi tu prima è un ottimo esempio, oggi abbiamo già i nomi degli indiziati, potrebbe essere un subgoverno Salvini-Ronzulli? Beh, probabilmente sì, a condizione ovviamente di una presenza di Ronzulli stessa all'interno dell'esecutivo perché questo non è scontato perché Giorgio Meloni in questi giorni sembra abbastanza determinata a compiere le sue scelte, ben conscia anche insomma del contesto poco felice, ora noi siamo in inizio della legislatura dal punto di vista proprio della cronaca quotidiana e dovrebbe essere fra virgolette un momento se non lieto leggermente meno cupo della politica perché è il momento principe della spartizione delle cariche e del potere, il problema è che ogni giorno incombe un'emergenza, anzi una serie di emergenze concatenate che sono appunto in parte ancora una coda della crisi sanitaria legata al Covid, una misura molto maggiore dalla crisi ucraina, insomma, quello che fa dire il Fondo Monetario Internazionale che siamo in recessione, che fa, insomma, diagnosticare una recessione all'Italia per 2023, insomma, contesto molto poco felice per prendere le reddine del paese in questo momento. E hai già descritto molto bene quella che è la situazione, ti ringrazio, hai questa capacità sempre di tenere insieme un po' tutto, passando a proposito di tenere tutto insieme dalla politica, diciamo così, più prettamente nazionale a quella invece toscana, volevo chiederti in realtà diverse cose, ma la prima che ti chiedo è questa, una domanda mentre ritrovo il giornale che ti voglio mostrare, ti chiedo subito, ci saranno toscani che saranno interessati da incarichi di governo, da incarichi invece, insomma, importanti in Parlamento, secondo te? Beh, l'indiziato, per usare un termine atteccaro in questa trasmissione, potrebbe essere proprio Giovanni Ronselli, che può essere giocato come una sorta di jolly, sia per un ruolo nel governo che per la gestione concreta e immateriale del partito di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni a Palazzo Chici. Lui probabilmente è l'esponente più in palla, insomma. Certo, più vicino, non vedi altri toscani in odore di qualcosa di importante, neanche io. Allora, al momento no, però le liste dei ministri e le successive liste dei viceministri possono essere spesso fonte di grandi sorprese, quindi… Sì, non useranno i cencelli, ma sicuramente cercheranno di compesi e contrapesi. Diciamo che il totoministri, lo dimostra il caso Ronselli, spesso serve anche a bruciare candidature poco gradite, insomma. Anche io non avrei scommesso un euro, ovviamente senza nessun, come dire, tifo, si guarda quello che succede, noi questo facciamo e raccontiamo, però non avrei scommesso un euro fino a poche ore fa sull'elezione di Ronselli, anzi sull'indicazione di Ronselli come ministro, però vedo che, come dire, si muove con Silvio Berlusconi, va ai vertici con lui, li organizza lei, tratta per se stessa, quindi insomma tutto può succedere, vediamo, è stato scalzato anche Tagliani da questo punto di vista, però voglio andare su Firenze, insomma città dove tu vivi e da qui ci racconti anche la politica, spesso, insomma qua abbiamo l'articolo di Ernesto Ferrara, prima lo avevo mostrato durante la prima parte, però insomma Renzi pronto a ritirare l'assessora, ancora alta la tensione con Nardella, insomma la conosciamo bene, la questione l'abbiamo descritta, la stoccata sulle multe, fa parte della partita più ampia sul ruolo di Tagliaviva nelle scelte future su Palazzo Vecchio, c'è tutto già in questo titolo e in questo sottotitolo, questo secondo te, questa strategia della tensione che Renzi sta attuando, quanto è genuina rispetto al tema e che cosa c'è dietro? Allora, c'è una parte sicuramente genuina legata al fatto di Cronachense, cioè la questione delle multe a Firenze sta diventando un tema scottante perché l'aumento, l'incremento delle contravvenzioni c'è ed è significativo e anche di contravvenzioni che non sono esattamente quelle dei pirati della strada che vanno a 100 km orari su strade urbane, insomma. Hai mai preso una multa su quei viali? Diciamo che, non posso dirlo, forse diciamo che per ora non mi è arrivato nessun verbale, però chissà perché il rischio di andare a 51, ovvero a 56, visto il margine di tolleranza, a volte è dietro l'angolo, insomma, è dietro l'angolo e quindi insomma... E invece lo sfondo di cui... Non ho avuto multe, non te lo auguro. Cerco di essere prudente con la guida. Non te lo auguro, ci mancherebbe altro, però era anche una scusa per dire, invece poi sullo sfondo che cosa c'è veramente, Firenze 2024 e in che senso, ovviamente si parla dell'elezione del sindaco del dopo Nardella, però insomma, cosa potrebbe volere Renzi? Beh, il terzo polo a Firenze è andato relativamente meglio rispetto alla media nazionale, quindi un terzo polo in doppia cifra... Quasi il doppio dei voti in preso rispetto alla media nazionale. Sì, il 15% insomma in città. Un grado di consenso, un livello di consenso che evidentemente Renzi porrebbe poi dopo far pesare un tavolo delle trattative per la designazione del nuovo candidato sindaco per il centro-sinistra, mettendo anche dei nomi, cioè un nome di quale si parla spesso è quello di Stefania Saccardi, la vicepresidente della regione toscana. Che è quella che ha raccolto quei voti al collegio puntuni nominale maggioritario di cui stavamo parlando precedentemente, quindi potrebbe essere lei. Senti, voglio farti un'ultima domanda riguardo invece alla politica prattese, perché tu hai raccontato a lungo anche solo Prato, ma adesso ovviamente racconti tutta la Toscana e voglio chiederti se da Firenze, ormai sono anni che racconti il palazzo anche, c'è una decrescita della, come dire, opinione sul peso di Prato oppure no? Una cosa di cui si parla molto. Allora, diciamo che, un discorso importante è questo, se vogliamo vedere in una cornice più ampia la questione con il nuovo presidente della regione, cioè il nuovo presidente della regione che è stato eletto nel 2020, quindi con Gianni nei primi due anni di mandato, forse c'è una maggiore capacità di ascolto delle istanze dei territori, quindi anche del territorio di Prato, penso alla questione molto sentita da queste parti dell'aeroporto, quindi una valorizzazione maggiore del ruolo anche delle amministrazioni locali si nota, insomma, almeno sul versante della regione. Poi certo, non voglio eludere la domanda, Prato esce da una competizione elettorale la quale il centro-destra è riuscito a indicare e a riportare in Parlamento la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Enrico Mazzetti, e quindi... E non solo. E non solo, quindi esprimere una maggioranza di centro-destra sia alla Camera che al Senato, mentre il centro-sinistra non solo ha paracadutato Tommaso Nannicini in una corsa sfortunatissima che si è conclusa con un atterraggio molto di emergenza, diciamo così, perché si è concluso appunto con un ampio margine di distacco in un collegio che non necessariamente, visto che comprendeva anche una parte del Mugello, un bastione, esattamente un bastione del centro-destra, del destra-centro, che dir si voglia. E in più, insomma, la palla sanguinante, così si può dire, è la mancanza, ancora una volta, da parte del Partito Democratico, di un candidato espressione sia del Partito Locale che delle indicazioni del sindaco e dell'amministrazione locale, perché, insomma, a posto di Nannicini, sappiamo bene, doveva correre l'assessora al bilancio. Quindi non è un momento felice per il Partito Democratico, né a livello nazionale e neppure a livello locale, insomma, il PD Pratese evidentemente, come dire, viaggia ancora una volta a credito rispetto al Partito Nazionale che deve due rifavori probabilmente, perché, insomma, dopo Benedetto della Vedova, Tommaso Nannicini, peraltro con centri poco lungimiranti dal punto di vista elettorale, perché sono state due sconfitte, una più clamorosa dell'altra, insomma. Assolutamente, la vendetta lì della Vedova, che è stato eletto all'uninominale a Milano contro Tremonti, che fa parte del Partito vincitore delle elezioni, dice tutto. Carlo Andrea, ti ringrazio tantissimo, spero davvero di strapparti in diretta questa, davanti ai nostri telespettatori, la promessa che tu possa tornare, perché, insomma, è davvero stimolante, quindi, insomma, se vuoi tornare prima di tutto sarai un ospite graditissimo, ringrazio anche i telespettatori e vi do appuntamento come ogni giorno, domani, a prima di tutto. Questo programma è stato offerto da... Conf Commercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it